E mentre noi eravamo qui a cominciare i festeggiamenti, le celebrazioni per la stagione 2022 con i prize giving della FIA, in Qatar si stava concretizzando la grande sorpresa, la tragedia sportiva del Brasile, il trionfo della Croazia e il rigore, ma ovviamente quella l'abbiamo seguita anche da qui con qualche protagonista molto importante. Questa è una cosa che ha fatto, quindi se la scuola ha fatto, se la scuola ha fatto la scuola, questo deve essere così ecco, immaginare la heart rate, la pressione, se fii 10 un riuscito fai pure la posizione adesso sono un riuscito è l'intensivo si è aside si è andato altra i più il nostro il nostro il nostro il nostro molto bella benedetta, che scendere in giro. Sempre lo bello. Non lo bello. Non lo bello. Non lo bello. Non lo bello. Ma che è stato fatto? Non lo bello. Non lo bello.